Musica E' arrivata in biblioteca, questo è il secondo anno che organizziamo il Free Pro Pride con l'aiuto delle volontarie del servizio civile quest'anno sono tre donne, quindi vivono le nonne ce l'abbiamo messa tutta poi noi ci sono belle ragazze Maria Cristina, Cristina e Alessandra adesso inizieremo il programma che è nel volantino inizieremo dal museo perché poi i nostri collaboratori del comune vanno via per le 5 e mezza 6 quindi conviene seguire loro, mi portano al museo, mi fanno una vista guidata poi torniamo qui e facciamo biblioteca, casa del libro antico e poi aspettiamo la serata perché ci sarà un dialogo con Antonio Sampiotti e con loro tre e quello, credo che siano un bel confronto quindi buon inizio prego grazie allora diciamo un attimo il programma quale sarà la signora Bonetti ha già detto un po' che cos'è il Free Pro Pride ma lo ripetiamo per ricordarlo agli altri il Free Pro Pride è un evento nazionale che si tiene quest'anno a custodia dal 23 al 30 settembre quest'anno da noi per motivi che non mi stiamo a dire l'abbiamo organizzato il 28 settembre in una giornata però nella sua semplicità, nella sua essenzialità speriamo che possa arrivare dritto ai vostri cuori ma non la facciamo così romantica come cosa ma soprattutto alle vostre menti per aprire le menti di ognuno piccoli, grandi che siamo perché crediamo che la conoscenza sia sempre nuova si possa conoscere sempre qualcosa di diverso anche in un palazzo dove andiamo ogni giorno a studiare soprattutto parlo con i ragazzi ci richiamo qui per leggerci il nostro libro per preparare le nostre sane però diciamo che non abbiamo relazioni con gli altri quindi per far capire cosa vogliamo iniziare questo Free Pro Pride oggi per far capire come la biblioteca non sia solamente un luogo statico ma un luogo attivo di relazionalità con gli altri dove le persone possono conoscere e conoscersi e soprattutto conoscere dove noi stiamo poggiando in questo momento i nostri piedi era un palazzo nobiliare ne sappiamo la storia sappiamo un po' nelle diverse aree quelle fresche che ci sono ecco, per una sorta di conoscenza personale, culturale che ci arricchisce e poi parlare anche e soprattutto del museo delle radici della nostra storia perché è fondamentale conoscere chi noi siamo quindi partiremo oggi proprio da questo e le ragazze diranno un po' quale sei il programma comunque quando saremo nei luoghi inizieremo a spiegarvi in maniera dettagliata cosa faremo beh allora, ora ci spostiamo tutti insieme verso il museo facciamo la prima tappa lì dove sarà appunto Maria Cristina a spiegarvi un po' le varie sale con le sezioni, con i periodi soprattutto e poi ritorniamo qui inizieremo proprio dall'esterno spiegare più o meno già dall'esterno cosa si può notare di particolare da un palazzo che magari noi passiamo e lo vediamo lì veramente statico quando in realtà ha tanto da raccontare e poi ci sposteremo all'entrata appunto c'è una porta con la casa del libro antico e lì ci sono libri, ci sono 2500 libri in realtà sono tantissimi sono dei libri studiati e ristudiati comunque poi ne parleremo sempre all'interno sono libri molto antichi e proprio casa del libro antico perché sono libri del 1400 e poi come ha detto appunto Claudia ci sposteremo nella sala Giuseppe Perry per ascoltare un po' del libro di Antonio diciamo qualche domanda ad Antonio che ci risponderà e farà conoscere questo quest'opera che ha creato dove dirà tanto quindi beh spostiamoci allora saliamo su al museo questo prima un tempo era un convento domenicano che ora è stato comunque trasformato nel museo di Lanzia Terme Comunale ora saliamo e vediamo un po' quali sono le varie sessioni ok? mi fanno quando è stare pure quando è stare pure ci siamo? ci siamo? possiamo iniziare il nostro mercorso ok andiamo la prima sala è la mia storia ok andiamo ok andiamo ok andiamo ciao ok andiamo Ok, la prostoria, come sappiamo anche dalla parola stessa, è la storia, che procede alla storia in un certo senso, nella quale non abbiamo fonti scritte, ma solamente fonti, ecco, come queste, frammenti. Tutto ciò che vediamo all'interno di questa sezione, ma anche di tutte le altre sezioni nel museo, fanno riferimento alla Piana della Mezza Eterna, ma non solo, anche altre realtà della Calabria stessa. Nella prima teca possiamo vedere quelli che sono gli strumenti rudimentari utilizzati in quel periodo, perché sappiamo che la popolazione di quel tempo era una popolazione comunque nomade, stiamo parlando del Paleolitico, un periodo in cui quindi si iniziava a conoscere cosa fosse la pietra. Quindi la pietra veniva in un certo senso raffinata in maniera molto grezza, molto grossolana, e lo possiamo migliorare in questi frammenti, che devono diverse parti della Calabria, ma soprattutto nella Piana della Mezza Eterna. Infatti vediamo Scordovillo, Teccarlini, Truscia e tante varie altre zone della Calabria. Abbiamo anche altri frammenti per quanto riguarda alcuni animali, quindi c'è nessinti, che in tempo erano molto più grandi rispetto agli animali di come sono ora. Per quanto riguarda invece tutte le altre zone abbiamo sempre altri frammenti che in un certo senso ci dicono come la realtà della Calabria si stava trasformando. Ancora qui vediamo comunque una realtà grossolana. Abbiamo dei grattatoi che servivano ovviamente per cacciare, perché un tempo ovviamente era la caccia la realtà fondamentale. Non c'era né l'agricoltura e nemmeno l'allevamento, l'unica cosa era il caccio oppure gli abili da frutto. Vediamo come nella trasformazione del passaggio dal pariolitico al neolitico, quindi alla nuova pietra, la realtà inizia a diventare più raffinata. Il laborline con cui venivano trasformate proprio le pietre si differenzia. Abbiamo un passaggio fondamentale, dalla pietra alla ceramica. Qui infatti possiamo notare come questi frammenti, vi vedo sempre trovati vicino all'incarabria, ma anche vicino alle nostre pietre, come vengono trasformati e utilizzati le decorazioni. Le decorazioni venivano fatte soprattutto ad esempio con le unghie, erano comunque, vi vedo sempre, delle decorazioni molto grossolane. Anche con utensili come le canne, le canne spezzate, si utilizzavano per intagliare, diciamo, e modellare il materiale. Poi, qui c'è un elemento fondamentale, che è l'ossidiana. L'ossidiana deriva dalle isole olie, ed infatti c'era una pietra larica, che veniva quindi recuperata da quelle zone, e veniva utilizzata soprattutto per le prezze, proprio perché era molto appuntita. La parte più importante, si può dire, del periodo della preistoria, per quanto riguarda non l'Amezia, quindi la Piana Lametina, ma comunque la Calabria stessa, è quel frammento lì, quella tomba, possiamo vedere vicino, che è stata trovata nella grotta di Papasidero, la grotta del Romito. In pratica questo era un esempio di sepoltura di quel tempo. Diciamo che in quel periodo nasceva quella che era la pratica della religione, no? Però era una pratica abbastanza grossolana, e diciamo che c'era la concezione secondo la quale delle persone che erano legate di un vincolo, in questo caso poteva essere un matrimonio, amicizia, fratellanza, venissero comunque sepolti insieme, perché credevano che oltre la vita terrena ci fosse una vita celeste, quindi parlare dell'eternità. E anche la parte fondamentale sempre trovata nella grotta del Romito è il boss timogenius, che in pratica è un bovino che veniva rappresentato proprio per augurare questa eternità e questa grassanza, se vuol dire, o comunque prosperità in una vita oltre tomba. Questa ovviamente è sempre una riproduzione, come la maggior parte degli frammenti che abbiamo, è una produzione dell'originale e tenuto nel Museo di Raggio Calabria. Una curiosità è per l'appunto che uno dei due corpi più grandi rispetto all'altro si presumeva che appunto uno fosse un corpo di donna e l'altro invece di un uomo e si presume appunto fosse il figlio e quindi fossero stati messi nella stessa tomba. In realtà ci sono diverse versioni, chi dice che siano una coppia di amanti, chi madre e figlio, chi l'uomo essendo quello più piccolo fosse effetto di un analismo, ma in realtà ci sono varie interpretazioni come in qualsiasi cosa ovviamente, la cosa importante è l'immaginazione perché in questo periodo, vi ripeto, non c'erano delle fonti scritte, delle fonti esatte. Quindi il periodo della preistoria in realtà si conclude proprio da questa evoluzione, dal passaggio della pietra alla ceramica, da pratiche più grossolane a pratiche più raffinate e proprio da lì vediamo un esempio di archeologia sperimentale, infatti un autore della pietra alla matina è riuscito a riprendere le tecniche ceramiche che venivano utilizzate proprio nella preistoria, quindi venivano ripresi gli stessi materiali, gli stessi utilizzavano la stessa mania ad esempio per poterla modellare e li possiamo vedere lì, in quelle tepe lì. Ecco, questo è il laboratorio proprio didattico sperimentale, quindi queste sono delle verità di rappresentazioni di come dovevano essere quei vasi lì, perché soprattutto erano dei vasi, tutti i frammenti che possediamo comunque anche vediamo nell'età classica sono frammenti di vita quotidiana, quindi case o comunque realtà che sono state ritrovate. E vediamo che in questa sezione diciamo la realtà è molto frammentata, non abbiamo tante testimonianze. Ecco, è stato ripreso anche questo laboratorio del formare un fogolare dove veniva colta proprio l'argilla allo stesso modo di come doveva essere un tempo, quindi stiamo parlando di circa due milioni da anni fa, quindi è una cosa fondamentale, perché a volte non ci si pensa, ma anche la nostra realtà è stata dominata da varie realtà differenti, cosa che vedremo soprattutto nell'età classica e nell'età della Magna Grecia, che vedremo tra un attimo. Potete vedere un attimo e soprattutto ovviamente qui, in questo caso ho dimenticato, è il simbolo dell'evoluzione umana ovviamente, quindi la trasformazione del cranio in base alle varie epoche. Potete vedere un attimo e poi possiamo andare alla parte classica, che diciamo sono le fonti più, non importanti, ma quelle che forse ci possono toccare di più un attimo, sono più vicine a noi. Ci siamo? Questa è la parte classica della quale abbiamo frammenti e possiamo iniziare il nostro percorso che è un riferimento a queste tabelle bronze, una differenza al V secolo, l'altra comunque al IV secolo, che è quella della quale conosciamo veramente tutto come c'è scritto. Questo primo trametto, che torna la lamina bronze del V secolo, non sappiamo in realtà come c'è scritto al suo interno, però è la testimonianza del passaggio dalla ceramica a quello che è il bronze, quindi i metalli, quello per questo è la pratica denominata la realtà dei metalli. Poi invece questa lamina, che in realtà fosse la più importante per riferimento alla metà del IV secolo, è in pratica un testamento patrimoniale fatto da un padre alla sua famiglia, nella quale ovviamente venivano demandati i vari beni della famiglia. Una delle parti più importanti della sezione classica sono i tesorecchi, però le monete che sono state ritrovate nei vari ambienti della Carabbia, ma soprattutto è la piana, le serene. Uno dei più importanti è quello di acqua fredda, della quale abbiamo diverse monete, di quali sono raffigurati ovviamente i diversi simboli delle dinastie più importanti in quel periodo, infatti parliamo di influenza delle diverse parti del meridione, quindi le monete più importanti a vorrei di saperi erano per esempio la realtà di Sibari, di Taranto, ma abbiamo anche le testimonianze di monete della parte di Terina, Terina che è fondamentalmente la parte più importante per noi, quella che conosciamo di più. Qui possiamo vedere proprio le diverse monete appartenenti alle diverse parti geografiche del territorio, della vittura per quanto riguarda l'età classica, infatti l'editria viene definita figure rosse. L'importanza diciamo di quel periodo era dipingere quelle che erano delle figure nere che vedremo qui successivamente, ma questa è una cosa fondamentale e importante, diversa rispetto a tutte le altre cose che abbiamo visto fino ad ora. che cos'è, semplicemente è un vaso che ha la caratteristica dei veri preumanici che deriva utilizzata, come dice la parola stessa che deriva dal greco, per l'acqua e quindi è un contenitore utilizzato per l'acqua. Le figure qui rappresentate rappresentano una donna, comunque sicuramente si spensa, si prospetta, di origini nobiliari, che è in preda a fare il suo bando, la sua toletta, attraverso la traduzione di tutti gli obiettivi dei suoi serbi. e questa deriva da Contala Cecoseto, quindi è sempre della Piana di Venezia. la trovata senza fondo attorno agli anni sessanta, credo, e si chiedeva fosse stata trafugata, quindi non si sa realmente chi ci fosse, perché sono state trovate solamente delle altre cose. e quindi abbiamo visto meglio un femore e una magerna. La cosa, diciamo, più curiosa è che all'interno di questa bomba, che è stata ovviamente riposizionata nella stessa maniera, ci sono dei numeri romani, dall'1 al 10, che proprio simporebbero il fatto che avessero un loro ordine e la loro organizzazione. Poi, ecco sempre, abbiamo queste anfore. Grazie No Grazie a tutti. Grazie a tutti.